Qui alla Manuelina io sono arrivato da più di 25 anni. Fra queste mura, che allora erano un po' diverse, ho scoperto un vero e proprio piccolo mondo conservato con amore e cura attraverso quattro generazioni. Per noi la tradizione è un riferimento costante. Ogni giorno scelgo di presentare piatti che parlano del nostro tempo attraverso gli stessi sapori sinceri delle cucine Liguri di 150 anni fa. Nelle nostre lezioni vi parlerò di una delle nostre pietanze simbolo, ovvero la focaccia. Quella di Recco naturalmente, ma anche la genovese, il pan focaccia e la farinata. Capolavori di semplicità. Se il cibo può davvero tramandare storie, preparatevi perché questa sarà molto speciale. Ve la racconto nel mio corso su Accademia. Grazie.